riprendo il video perché mi sto caricando la batteria che vedete lo butto qui nel centro di raccolta lo butto qui domani mattina io cerco di fare queste cose con i guanti però sempre la colla dietro vabbè signori basta adesso comincia a fare tardi c'è anche fame ecco davanti a me c'è la curva che va a destra davanti ai due concessionari poi c'è oltre quel nero lì c'è la provinciale dove adesso passa una macchina vedete ecco quella è la provinciale binasca che fa da confini tra melignano e san giugno milanese che dall'altra parte invece siamo via vittorale salvato rollende melignano la parte centrale diciamo ecco perché dopo la via li gira a destra va in fondo e poi si ferma è molto lunga qui io ho iniziato a lavorare però dalla parte in fondo di là perché di là la via gira a sinistra e poi gira ancora a destra e va in fondo dove c'è una torre di cambi e un colorificio ecco io li ho iniziato a lavorare 15 anni come meccanico attesatore signor grande signor pozzi comunque quando passi di qui ogni volta che passo è sempre peggio non schifo il mondo e al bacio adesso poi stasera era un bel po era un paio di mesi non ci passavo stasera ha fatto un giro di ispezione visto bacila ero solo ciclabile praticamente su questa pista ciclabile qui che praticamente non potevo neanche passare perché c'è la pianta qui la pianta cioè fanno reciclabili che non c'è che non riescono a farci la manutenzione quindi non si possono usare fanno un marciapiede la un marciapiede lì che è pieno di erbacce e non si può usare come cazzo fa la c'è gente di...